La politica e il consigliere regionale del Partito Democratico, Piero Lacorazza, girerà la Basilicata per incontrare cittadini e amministrazioni. L'annuncio è in una conferenza stampa in cui si è parlato anche delle prossime elezioni regionali e delle scelte che dovrà compiere il PD. Il servizio è di Davide Marcetto. Trovare una candidatura per la regione che unisca, magari quella di una donna e, perché no, della provincia di Matera. Parole di Piero Lacorazza che prova a smuovere le acque nel Partito Democratico a 40 giorni dalla batosta del 4 marzo. L'occasione è la conferenza stampa per presentare l'iniziativa Basilicata First in Viaggio, un tour tra i paesi per ascoltare i cittadini, già iniziato nei giorni scorsi, tra gli operai davanti ai cancelli della FCA di Melfi. È necessario andarsi a prendere le critiche, le accuse, le tante difficoltà che ci sono, il tanto disagio e anche le eccellenze che ci sono in queste regioni. Il PD è troppo chiuso. Secondo Lacorazza, dopo la sconfitta il PD Lucano è rimasto fermo, nonostante ci siano le elezioni regionali da pianificare, sui programmi, sulle alleanze e sulle candidature. L'attivismo di Lacorazza potrebbe far pensare a una sua volontà di correre per succedere a Marcello Pittella, ma il consigliere, che non pone veti espliciti su un Pittella bis, lascia tuttavia intendere che per competere contro Movimento 5 Stelle e Centrodestra vorrebbe trovare un altro nome. Penso che noi dobbiamo lavorare nelle prossime settimane a individuare davvero una persona che possa superare questa dialettica politica all'interno del PD. E quindi ciascuno di noi nelle prossime settimane deve essere davvero pronto a fare un basso indietro. Lacorazza chiede anche al segretario regionale PD Mario Polese, vicino politicamente a Pittella, di non ricandidarsi in consiglio regionale così da essere, spiega, figura di maggior garanzia nella fase di scelta delle candidature. Intanto l'ex presidente del consiglio regionale continua la sua campagna per una maggiore autonomia di spesa della regione rispetto allo Stato centrale.